Come annunciato dalle organizzazioni sindacali, venerdì scorso dalle 6 alle 21, i dipendenti delle piscine e le naie di Vescara sono scesi in sciopero per protestare contro il mancato pagamento degli spendi degli ultimi tre mesi. Pur garantendo la manutenzione dell'impianto, i lavoratori hanno incrociato le braccia e tenuto un sit-in all'esterno dell'impianto sportivo. Intanto solidarietà ai lavoratori che non prendono lo stipendio da quattro mesi. Succede anche questo su una struttura che è sostanzialmente pubblica, su una struttura in cui la giunta Marsiglio diceva che non sarà chiusa neanche un giorno, invece è stata chiusa oggi, tant'è vero che tantissimi bambini che fanno parte dello sport non mai in vacanza sono dovuti andare fuori. E questo non per responsabilità dei lavoratori, che anzi hanno tenuto aperta nonostante quattro mesi di ritardo. Non si può immaginare di restare vittime di questioni burocratiche, ha giunto Guido Cupido della SLC Cigelle, visto che abbiamo letto che l'attuale gestore vanta dei crediti nei confronti della regione che forse proprio per questioni burocratiche non vengono ancora percepiti e tutto questo sta generando una situazione di assoluta ingestibilità. Sono preoccupati anche perché il 31 di luglio scadrà il bando per l'affidamento ventennale che ha delle clausole molto onerose e in prossimità della scadenza dell'affidamento provvisorio alla pretuziana che scadrà il 31 di agosto c'è grande imbarazzo. Non si sa come sarà il futuro per loro, non si sa se verranno pagati questi stipendi. Insomma, una situazione veramente difficile.